ciao salva a tutti ragazzi sono il game game e oggi andremo e abbiamo una notizia molto importante per il canale allora in questo video ci sarà l'intro perchè voglio spiegare cosa sta succedendo ho deciso il nuovo nome allora il nuovo nome si chiamerà e sarà mangamer04 spero che ti piaccia e ci ho lavorato molto ho già fatto il quale cittadina e lo chiede così però non l'ho ancora messa perchè volevo aspettare di fare questo video sto progettando una nuova intro per il canale e come potete vedere oggi siamo in gameplay per insercizionervi che è l'unico circuito e altro successo di 4 come potete vedere o naruto e se finisce dell'asco non ho finito la storia perchè appunto lo volevo fare per voi poi la faremo insieme per finiremo ma ho in più altre bonus perchè ho in più altre bonus quindi ci ho creato anche come che sarà da di futuro perderò anche il DLC di Shikamaru e poi vedremo oppure vi dicevo ho deciso di cambiare il nome perchè ho notato che molti altri youtuber avevano un profondo per il mio e non mi sembrava giusto avere più di un video con queste cose in realtà ci sta devastando e quindi ho deciso appunto di cambiarlo e mettere appunto anche il gamer04 che mi sembrava anche il nome perchè unisce la parola MANGA GAMER e in realtà abbiamo detto primo rango unisce la parola MANGA GAMER poi 0-4 perchè quindi la 4 che è la boccata che nasce ci hanno bisogno di spiegare così allora intanto continuiamo lo scontro accettiamo di dove sta il suo fruque ci fa lo scioglio del segno alla fine una mossa di ehm pain comunque adesso super spagamento del segno ok perfetto lo mandiamo via intanto che ho fatto l'interventà comunque aver avuto questa idea spero che il nome vi piaccia quindi se vi piace trovo mettete tanti miei like e iscrivetevi ehm comunque allora intanto dove siamo fa finché ci trasformiamo e poi ripeto lo avuto e quindi evitiamolo allora vi annuncio che la copertina sarà praticamente ehm il fondo che ho trovato sull'intervento attualmente il 10,260 e il 1440 no mi sa che non ci ammazzo in questa volta non ci ammazzo però ho cercato di ammazzarlo non ci ammazzo quindi facciamo così no non ci ammazzo lo manchiamo di nuovo lo manchiamo un'altra volta lo manchiamo un'altra volta lo manchiamo un'altra volta ok l'opo se tu ci guardi a sentire almeno non mi sbagliato lo manchiamo dai canchiamo vai non ci credo dai vai preso vai questa costa epica l'altro. A parte questa scena vi posso dire che il nome, vi ripeto, verrà cambiato. Spero vi sia piaciuto il video e lo scontro, mettete un bel like. Ciao a tutti, al prossimo video.